Aperto a Pistoia lo sportello bottega della salute per aiutare i cittadini, in particolare gli anziani, ma non solo, a sbrigare le pratiche online per le quali è richiesta una certa conoscenza informatica, oltre al possesso di un computer e di una connessione internet. Lo sportello è stato inaugurato nella sede del sindacato pensionati SPI della CGL in via Gentile nel quartiere delle Fornaci, che è uno dei più popolosi di Pistoia. A gestirlo sono i volontari dello SPI con il supporto di Anci Toscana, titolare del progetto che vede coinvolti nella rete bottega della salute oltre 100 realtà fra comuni e associazioni in tutta la Toscana. Quelle cose che servono per dialogare con la pubblica amministrazione, lo SPID, prendere gli appuntamenti per visite e analisi, per fare la carta d'identità, tutte quelle cose che oggi le persone sono comunque costrette a fare attraverso strumenti informatici. Noi abbiamo aderito a questa iniziativa della Regione Toscana, dell'Anci Toscana, che apprezziamo, e abbiamo detto diamo la nostra sedia a disposizione per aiutare le persone in un quartiere. Questo delle Fornaci sicuramente non è un quartiere facile. Si può far diventare questo un sistema diffuso in tutta la nostra regione, soprattutto nei comuni più piccoli, nelle aree più interne, rivolgendosi alle persone che hanno maggiore difficoltà. Una bottega della salute che si rivolge a tutte le questioni quotidiane che sono miriade di ciascuna persona e di ciascuna famiglia, cercando ovviamente di dare risposte o comunque sia di dare indirizzi precisi rispetto alla domanda che viene posta.